Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Inter, dato che voglio esprimere il mio parere, non mi esprimo ormai da parecchi giorni, quindi voglio dire giusto qualcosina. Da tre giorni sto portando qui sul mio canale video riguardanti il tema dell'ufologia e alcune persone sono venute a chiedermi, ma ti occupi ancora di calcio? Da quando porti questi argomenti sul tuo canale? Allora, per fare chiarezza, io ho sempre parlato sia di Inter che di argomenti paranormali, misteriosi e riguardanti l'ufologia qui sul mio canale. Sempre l'ho fatto e sempre continuerò a farlo. Non significa che soltanto perché un canale parla di calcio non può trattare o offrire ai propri iscritti altre tematiche e altri argomenti su cui riflettere. Anzi, io, se proprio devo essere sincera, apprezzo più i canali che hanno da offrire più tematiche e non i canali che, pur di fare i video, sono alla continua ricerca del cosiddetto pelo nell'uovo. Perché ovviamente non sanno mai su cosa fare i video, vanno alla continua ricerca della polemica, della frasina detta, della minima virgola. Quindi io fossi in voi apprezzerei più un canale che ha da offrirvi più tematiche, non soltanto una. Detto questo, se la cosa non vi aggrada, non so che dirvi, disiscrivetevi dal mio canale e andate a cercare il canale che fa il caso vostro. Io comunque continuerò a trattare anche argomenti che non c'entrano niente con il calcio perché sono cose che a me interessano e mi sono accorta che ci sono anche tantissime persone, miei iscritti, che sono interessati a questo genere di argomenti paranormali, misteriosi e riguardanti l'ufologia. Quindi, piccolo chiarimento, piccola precisazione, adesso parliamo di inter. In questi giorni non avevo nessunissima voglia di dare importanza a chi ci rappresenta in questo periodo. Perché ovviamente io quando parlo di delusione, assolutamente non parlo dell'inter, nel senso della maglia e dei miei colori. Ma parlo invece di chi ci rappresenta. Stanno facendo una pessima figura, sono vergognosi, una delusione totale. Ogni anno si parte sempre con tutti i buoni propositi, ci mettono, ci illudono, ci illudono in una maniera impressionante e poi puntualmente ci deludono. Perché si fa un tot di partite buone, un tot di partite positive e dopo l'inter sparisce. Ciao ciao. La storia si ripete, continua a ripetersi. Allora, io devo dire che l'anno scorso ero molto più polemica, nel senso che quando leggevo, per esempio guardavo un programma sportivo, nel momento in cui leggevo una frase che non mi piaceva molto, ci facevo su un video perché volevo comunque confrontarmi anche con voi, volevo esprimere il mio parere. Ad oggi vi dico che nel momento in cui mi capita di vedere un programma sportivo, io ormai proprio non ho la voglia di mettermi davanti al cellulare e parlare di quell'argomento, di quella frase detta. Perché è come se io mi mettessi a parlare di una persona che mi sta prendendo in giro. Io ovviamente non mi metto a parlare di una persona che mi sta prendendo in giro, perché questo, è proprio questo ciò che stanno facendo loro. Allora, io posso capire se un giocatore ha un periodo no. Ovviamente sono umani, non sono delle macchine. Come a noi capita di avere dei periodi no, in cui non siamo nel pieno della forma e tutto quello che volete, capita anche a loro ovviamente, anche loro hanno famiglia, anche loro avranno i loro problemi e tutto quello che è. Però sinceramente me lo aspetto da uno, massimo due giocatori, cui influenza di massa, perché questi qui tutti insieme hanno deciso di sedersi, di non fare più niente, di raccogliere e collezionare figure di sterco e a me sinceramente da tifosa non va bene questa cosa. Stanno facendo delle figure pessime. Alcuni sotto i video, nel momento in cui registro il video post partita, mi vengono a scrivere. L'Inter è sempre stata questa, non c'è nessuna differenza. Allora, devo dire che le persone che mi vengono a scrivere così, cioè voi che mi venite a scrivere così, state al calcio come uno spicchio d'arancia sta nel latte, non ci azzeccate niente. Perché? Se voi mi venite a dire che la squadra è sempre quella, io vi dico sì, perché la squadra è quella alla fine. Però l'Inter non giocava assolutamente così all'inizio campionato. Ha giocato con voglia, grinta, cioè proprio si vedeva che avevano voglia di fare, vincere e anche dimostrare miglioramenti. Invece ora, tutto il contrario, il fattore psicologico fa molto. Il fatto che un giocatore scende in campo con la mente lucida, pronto a dare tutto, a dimostrare tutto, fa molto. Invece oggi tutto questo è venuto a mancare, non c'è più nulla. Vi faccio un esempio, Perisic. Allora, Perisic, lo continuo a ripetere, secondo me è un giocatore che ha del talento. Perisic ha inizio campionato, non giocava assolutamente così. Adesso Perisic non si sa come, non si sa perché, non gioca più. Questo qua in campo combina soltanto danni. E non mi venissero a dire verso la fine del campionato che c'è qualche problema nello spogliatoio, come l'anno scorso. Perché veramente lì mi incacchio come un toro imbizzarrito. Veramente lì mi incacchio come un toro imbizzarrito. Perché voi giocatori dovreste essere persone, cioè dovreste essere dei professionisti. E quindi se c'è qualcosa che non va, se avete litigato, o se c'è qualche incomprensione, dovete chiarire, dovete chiarire tra di voi, per il bene della squadra e anche di noi tifosi che puntualmente siamo sempre lì ogni settimana a guardare lo scempio che mettete in atto. Dovete essere, dovete comportarvi da persone professioniste e dovete cercare di chiarire per il bene della squadra, per il bene dell'Inter. E se veramente ci sono ancora problemi nello spogliatoio, allora siamo non solo rappresentati da gente a cui non frega niente dei nostri colori e della nostra maglia. Siamo anche rappresentati da un branco di bambinetti. E questa cosa sinceramente a me fa imbufalire. Perché questo è un Inter che io non riconosco più da anni. È da anni ormai che non riusciamo ad andare in Champions. È da anni ormai. Perché? Perché veniamo rappresentati da giocatori che non ci mettono passione, non ci mettono nulla. Mettono passione soltanto per otto partite. Dopo e dopo. Per quanto riguarda i problemi legati alla società non ci voglio neppure entrare perché alla fine io parlo parlo ma ovviamente nessuno mi ascolta. Realizzo questi video più che altro per avere un confronto con voi. E non venite a dare la colpa a Spalletti sempre all'allenatore. Cioè smettetela proprio. Perché la squadra è quella. Spalletti ha più volte dichiarato, ha più volte fatto capire che voleva certi rinforzi che non gli sono stati comprati. Quindi smettetela di dare la colpa a Spalletti perché Spalletti è veramente un allenatore decente. E se lui va via un altro come lui noi ce lo sogniamo. Quindi basta colpevolizzare ogni volta l'allenatore perché ogni anno la storia si ripete. Ogni anno gli allenatori cambiano ma l'Inter continua a fare schifo. Quindi basta dare la colpa all'allenatore. Spalletti ha questa squadra, deve lavorare su questa squadra. Ripeto ancora una volta. Ha fatto capire più volte anche in questi giorni che voleva determinati rinforzi che non gli sono stati comprati. Quindi basta, stop. Prendetevela più che altro con questi cadaveri. Che alla fine a questo punto i cadaveri siamo noi. che non stiamo combinando niente, addirittura ci facciamo castigare dal crotone. Prendetevela con loro perché stanno rappresentando proprio nel peggiore dei modi i nostri colori. Con loro ve la dovete prendere. Secondo me c'è qualcosa sotto. C'è senza ombra di dubbio qualcosa sotto. Non so se si tratta di problemi con la società. Non so se si tratta di problemi che hanno proprio i giocatori. Nello spogliatoio magari hanno litigato. Non lo so. Però secondo me se tu sei un professionista devi cercare di chiarire devi cercare di chiarire questi problemi con il tuo, con un compagno di squadra per il bene dell'Inter, per il bene della squadra in cui giochi. Non ce la faccio più a vedere questa Inter. Non ce la faccio più. Da un momento all'altro non sanno più giocare. Non sanno più fare un passaggio decente. Non sanno più fare nulla da un momento all'altro. Da un giorno all'altro la situazione cambia. Fatemi sapere un po' quello che pensate voi. Secondo voi dov'è il problema? Perché non è possibile che undici persone giocano in maniera decente e poi da un momento all'altro non si vedono più in campo. Quindi non so. Fatemi sapere voi. Io volevo soltanto avvisare i miei amici del bar di Sarenka sicuramente avranno capito i miei seguaci su Instagram ormai noi siamo gli amici del bar che ricomincerò a fare le live. Su Instagram ricomincerò a fare le live quindi niente, rimanete sintonizzati. Non so se ne farò una oggi. Se ho del tempo la farò altrimenti magari domani. E nulla. Questo era tutto ciò che avevo da dire. Diciamo che è stato un piccolo sfogo perché davvero non se ne può più. Qui c'è qualcosa sotto ma qualcosa sotto di molto pesante perché non si può ripetere ogni anno la stessa storia. Se tu capitano di una squadra dopo otto partite positive non puoi venire a dire che adesso è venuta a mancare la voglia la grinta la motivazione e tutto quello che è. Non si può non puoi perché tu rappresenti l'Inter tu stai rappresentando l'Inter quindi io sinceramente di venire qua ogni giorno a sprecare salute per questi qui che non se ne stanno proprio pregando niente dei nostri colori non ho voglia. Non so come fanno alcuni non so come fanno alcuni che perdono pazienza a parlare sempre delle stesse cose ma io no grazie. Fortunatamente ho anche altri argomenti o anche altre tematiche da proporvi. Vi ripeto se la cosa non vi piace disiscrivetevi dal mio canale perché io continuerò comunque a fare così. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e fatemi sapere ciò che ne pensate sempre Forza Inter.